Ci vogliamo occupare dei vaccini anti-influenzali tra medici di base, richieste e prenotazioni. Facciamo chiarezza con la dottoressa Paola Pedrini della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale che è collegata con noi. Buongiorno dottoressa, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a voi. Allora, in Italia il commissario Arcuri, reduce dall'operazione, insomma, si è conclusa un po' a metà della consegna dei banchi scolastici a rotelle, è stato incaricato dal Premier Conti di occuparsi della distribuzione del vaccino. C'è Confindustria che in queste ore denuncia, insomma, che sulle siringhe potremmo rischiare di ritrovarci come con le mascherine. E, insomma, c'è un piano in tutta Italia, chiaro, che funziona secondo lei? Speriamo che funzioni meglio della distribuzione dei vaccini anti-influenzali. Questo sicuramente, quindi, per ora la protezione civile è stata incaricata appunto dell'acquisizione e della distribuzione del vaccino anti-Covid. Mentre il vaccino anti-influenzale è compito delle regioni. Chiaro, chiaro. Insomma, abbiamo visto però che ci sono stati alcuni, più che ritardi di disguidi, in alcuni casi nelle prenotazioni. Ecco, e ancora la gestione, come appunto ha detto lei, dottoressa, è affidata alle regioni. Quindi questo, secondo lei, continua ad essere un problema per la gestione non solo della campagna di vaccinazione, ma per altri aspetti? Oppure è giusto che ogni regione si occupi del suo territorio? Da medico, intendo, e non da politico o da amministratori? Certo. Diciamo che io parlo da medico lombardo e fino all'anno scorso grandi problemi non ne abbiamo avuti. È stato proprio quest'anno che invece, quando la vaccinazione anti-influenzale era particolarmente importante, che ci sono stati una serie di problemi che hanno ritardato la distribuzione. Quindi è partita veramente con il contagocce, con 30 dosi a settimana. Ora abbiamo esaurito le prime dosi distribuite e fino a, ci avevano detto, metà novembre, non avremmo ricevuto le altre dosi. Adesso è già slittata al 19 di novembre. Sperando che non ci siano ulteriori ritardi perché abbiamo tutte le prenotazioni dei nostri pazienti. Ci sono le prenotazioni in coda e c'è da dire che le prime dosi sono già state somministrate a pazienti considerati parte delle categorie più fragili, più deboli della nostra società. Io la voglio riportare però sul tema con cui abbiamo aperto. Parlavamo dell'incarico del commissario Orcuri per il vaccino anti-covid. Allora, è un tema serissimo questo perché è vero che c'è ancora molto da aspettare, però paradossalmente io le voglio fare questa domanda, un po' una provocazione. Se il vaccino anti-covid fosse disponibile domani, è un'esagerazione evidentemente, in Italia c'è un piano perché questa è un'urgenza assoluta. O rischiamo di trovarci in una situazione in cui rallentiamo ulteriormente una procedura che è vitale? Se ci sia un piano non lo so, ma immagino di sì, nel senso che se hanno già dato ora il mandato a dar curi quando il vaccino in realtà non è ancora pronto, direi che si stanno portando avanti. Dottoressa Pedrini, arriviamo proprio sul concreto. Abbiamo parlato dei vaccini anti-influenzali per le fasce un pochino più deboli, per dei malati cronici o per gli anziani. I bambini consigliate da medici di vaccinarli? Può essere una buona idea? Nel caso a chi ci si deve rivolgere? Cominciamo a fare una telefonata al pediatra, al medico curante, oppure bisogna attaccarsi al telefono e chiamare il centro vaccinale più vicino o l'azienda sanitaria territoriale? Il vaccino quest'anno sicuramente consigliato è gratuito fino ai sei anni di età, quindi sì, bisogna rivolgersi o al proprio pediatra o ai centri vaccinali della zona, secondo di come si sono organizzati a livello proprio locale. Noi consigliamo la vaccinazione anti-influenzale comunque a tutti, sia alle fasce a rischio che alle fasce non a rischio, perché comunque diventano portatori del virus dell'influenza. Un po' come quello che abbiamo visto con il Covid, alla fine è bene proteggersi anche dall'influenza. Bene che abbiamo il vaccino, quindi sfruttiamolo. Dottoressa Pedrini, negli ultimi 30 secondi che ci restano, a proposito di questo suo appello, vogliamo ricordare anche perché è importante vaccinarsi, soprattutto quest'anno, anche per distinguere sintomi influenzali da sintomi più gravi. Esatto, riduciamo i pazienti con febbre, quindi eliminando almeno alcuni casi di influenza, quindi riusciamo, ci aiuta nella diagnosi differenziale di una febbre da Covid o di una febbre da influenza. Rimangono sempre le sindomi para-influenzali. Ma quello che è importante è anche che la vaccinazione anti-influenzale riduce i ricoveri per le complicanze dell'influenza e quindi riduciamo il carico sugli ospedali che già sono in difficoltà. Insomma, è di vitale importanza sottoporsi a questo vaccino, lo diciamo per chi ancora avesse dei dubbi. Grazie a Paola Pedrini della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, grazie per la sua chiarezza, per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie.